We love football! Da un'idea di Marco Antonio De Marchi, in collaborazione con Oblivion Production, torna a Bologna, dal 12 al 17 aprile, la seconda edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Under-15. 16 club, tra i più prestigiosi del panorama calcistico mondiale, si sfideranno con semifinali e finali allo stadio Renato Dallara. In programma, anche un torneo triangolare femminile tutto italiano, la partita dimostrativa della Nazionale Italiana Calcio Amputati, e in anteprima, il 10 aprile, la IC Senior League, con la partecipazione, tra gli altri, di Marco Divaio, Gianluca Pagliuca, Marco Negri. We love football! Dal 12 al 17 aprile a Bologna. Ingresso gratuito per i minori di 18 anni.